Capisci che la Lazio questa gara non l'avrebbe mai potuta vincere da come immobile si presenta dal dischetto e scalcia il calcio di rigore Dall'in poi pali, traversi, incroci, gol, gol in fuorigioco, espulsioni E sto ancora a domandarmi chi tra i due, Isai e Lucas Leiva, sia stato più ingenuo o oserei dire stupido Ma gli applausi del San Paolo a Insigne poi ti fanno capire perché il Napoli raccolga più di quello che ha seminato Il dio del calcio ha deciso così e a noi appassionati del calcio in una gara così spettacolare sta bene così Prima di parlare della gara appunto scarichiamo l'App One Football Così rimaniamo aggiornati su tutti i vari risultati delle varie competizioni Calcio mercato, news, tutto quello che vi pare In descrizione c'è il link gratuito La scarichiamo Sì, ragazzi partiamo dal fatto che è stata una partita spettacolare Sarà perché si è giocato praticamente 10 contro 10 Sarà perché tra calci di rigore, pali, traverse, l'abbiamo detto prima, incroci Abbiamo avuto veramente tante emozioni, abbiamo potuto raccogliere tanto da questa gara Ma ne è uscito fuori un sano spettacolo Un sano spettacolo E niente, sicuramente forse la Lazio Leverei, userei dire, cioè leverei forse La Lazio è stata meno concreta Perché poi ha creato di più ed è stata quella meno concreta Partiamo dagli episodi Perché poi questa gara la possiamo commentare come vogliamo Possiamo parlare del cuore del Napoli Dei napoletani soprattutto perché questa volta ho sentito un San Paolo caldo E pesa, pesa il fattore campo Veramente apprezzabile un po' l'incitamento di insigne Che appunto rende complici i tifosi Una cosa piacevole per quella che è la situazione che sta vivendo Napoli Quindi è un punto di partenza Ecco, è un buon punto di partenza Per magari una svolta, chi lo sa E stavo dicendo commentiamo gli episodi Perché poi questa gara bisogna commentarla tramite gli episodi Io credo quegli arbitrali tutti giusti Oserei dire tutti giusti In una gara comunque difficile L'arbitraggio è stato quasi perfetto Perché poi secondo me il rigore c'è C'è l'ammunizione ai sai Il rigore calciato male Forse il neo di questa gara è stato il campo Il neo, il San Paolo, il manto del San Paolo Sì, San Mauro San Paolo, pessimo Veramente gente che scivolava Immobile praticamente Ci ha perso la partita Ci ha perso la partita Sicuramente cambia un po' la trama Ma non finiamola qua Siamo qui Poi c'è il tiro di Non mi ricordo Di sai stesso forse Forse il tiro di sai stesso Su Acerbi Palla attaccata di Appunto Mano attaccata di Acerbi Non è assolutamente rigore O punizione quello che era Perché non sappiamo nemmeno Se fosse dentro o fuori d'aria Nello svolgimento dell'azione stessa Isai fa Una cavolata madonnale Sei già ammonito Sei già ammonito Vai a fare un'entrata Che non ha alcun senso Lo prende Prende in pieno il giocatore Ammonizione Espulsione Cioè quella di Isai È qualcosa di atroce Proprio di atroce È una cappellata atroce Ecco perché si denotano ancora i limiti del Napoli Perché una squadra più tranquilla Più serena Stecappellate non deve fare Questa Questa è stata Poteva essere L'ennesima cappellata Che il Napoli pagava a caro prezzo L'ennesima cappellata Che il Napoli pagava a caro prezzo Quindi quello di Isai È un gesto da Da evitare Poi Fallo di Leiva Fallo di Leiva Tattico Fallo tattico Ammonizione tutta la vita Ecco perché dico L'arbitraggio perfetto Ammonizione tutta la vita Leiva Manda a fa Ma lo manda a quel paese Lo manda a quel paese Fa così E lo manda Si sente dal labiale Va a fa E' spulso E' spulso E' spulso E' normale che già L'arbitraggio Si gioca a Napoli Ti ha dato a favore Degli episodi Che c'è A favore Degli episodi Che c'erano Normale che poi Devi stare Devi stare calmo Perché L'arbitro può essere Anche un po' Influenzato Ma Mi sento di dire Che l'espulsione Ci stava Quindi ci stava Si gioca in dieci La partita si svolge Dieci contro dieci E' andata E' andata così Pali da una parte Pali dall'altra Si La Lazio che ci ha provato Immobile Per un pelo Ecco perché dico Comunque che Immobile per me E' un attaccante forte Perché il gol In fuorigioco Di Immobile Comunque E' un grandissimo gol E' un grandissimo gol Quello di Immobile Però Magari Coprici Anche Ospina Non perfetto Però la palla Gli arriva Subito a torsione La mette là Grandissimo gol Da attaccante Poi si trova in fuorigioco Giustamente da annulare Ma resta il gesto tecnico Resta Comunque Lo stesso Napoli Un paio di volte Pericoloso Il palo Di Milik Il palo Di Mario Rui Dall'altra parte C'è stato il palo Di Come si chiamava Come si chiamava Quell'altro Di Lazzari Mi sa di sì Il gol annulato Di Di Acerbi Mi viene in mente A storie Di Acerbi E E Niente Per cui Magari La Lazio Con Un po' Di precisione In più La poteva La doveva Anche pareggiare Non è andata così Ognuno può Recriminare Gli episodi Buonissimo spettacolo E mancava Luis Alberto Luis Alberto Da San José del Valle Sarebbe stato Apocalittico Con lui in campo Va bene? Fatemi sapere Cosa ne pensate voi Commentate Live cut Iscrivetevi al canale Buonanotte Yes Grazie Il Grazie a tutti.